Grazie a tutti. I blondi sono qua dietro. Eccoli qua. Ciao a tutti. Come va? Number one all over the world. Number one. Numero uno. Oh, numero uno. Heart of Glass. Dove? Fai vedere Heart of Glass. Let's show your Heart of Glass. Questo è il cuore di vetro. Vedi il cuore di vetro. Come here. Because you have a look a little lady. Where are you from? New York. Brooklyn. 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 Your father or your grandfather was from where? Russia. Russia. E' russo. Il nonno russo. Scusate. Niente. Allora dicevo. What is the feeling? What? Why? He's Italian. Ah, finalmente. I confess. Ah, ci sono. Sempre ci sono gli italiani in mezzo ai gruppi. What is the feeling? What is the feeling of being number one all over the world? Praticamente dico qual è il... cosa si sente essere il numero uno in tutto il mondo questa settimana? Oh, great. I told him in English. Great? That's all? Yeah. Fantastico, eh? So, who is Italian? Tell me who is Italian. He is Italian? Lui italiano? You? Italian? Real Italian? Paisano, Paisano. Paisano, da dove? Di dove? Da dove? Where from? No, non capisci. Non capisci. Where from? Il romano anche in italiano. Jersey City. Eh? Jersey City. No, Jersey City in the States. In Italia. Naples, Naples. Naples? And you? And you? I have no idea. No idea, non hai più parole di idea. Vabbè ragazzi, insomma, ci sono quattro italiani, va bene. Abbiamo rispettato la media, allora, Blondi, che si chiama... Il gruppo si chiama Blondi con Heart of Glass. Forza! Numero uno in tutto il mondo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti